La pioggia di fondi che la Regione Campania ha destinato alla nuova stagione del Teatro Verdi di Salerno finisce nuovamente nel mirino dei 5 Stelle. Gli attivisti del Meetup hanno attaccato il Governatore Vincenzo De Luca e il Sindaco Enzo Napoli, contestata in particolare l'elargizione di soldi pubblici con modalità ritenute poco trasparenti dagli esponenti del Meetup di Salerno. L'amministrazione non è assolutamente trasparente nei confronti dei cittadini, nella gestione dei soldi pubblici e quindi in soldi che vengono cacciati comunque dai cittadini. Poiché riteniamo che non è un fatto di disinformazione la nostra ma semplicemente abbiamo già da tempo esposto forti perplessità non sulla qualità dell'opera esposta al Teatro Verdi ma sulle modalità di gestione di un'opera lirica che veramente è gestita come il Teatro degli Amici. Cioè persone che da anni continuano a essere investite di incarichi a cui vengono affidati milioni di euro, vorremmo che questa gestione fosse più partecipata e coinvolgesse maggiormente le maestranze salernitane, le scuole salernitane, in un progetto che possa durare tutto l'anno e che crei veramente un valore aggiunto alla città di Salerno in termini di lavoro e in termini di cultura. Visto che purtroppo in termini economici abbiamo già dimostrato ampiamente che è un'attività in perdita e quindi al costo dei cittadini salernitani, anche se il sindaco di Salerno continua a dire che il comune non tira fuori i soldi, ma comunque sono soldi pubblici, quindi soldi dai cittadini.